Avvalendoci del ricettario memorizzato in Hot Mix Pro, realizzeremo ora una crema di zabaione all'arancio. Utilizzeremo tuorlo d'uovo, zucchero, moscato, marsala, succo d'arancia rossa. Uniamo tutti gli ingredienti all'interno del bicchiere in acciaio di Hot Mix Pro. Selezioniamo la ricetta programmata e avviamo la macchina. Nessun parametro è stato impostato manualmente, la macchina lavorerà basandosi solo sul programma pre-memorizzato. In Hot Mix Pro inoltre è possibile memorizzare anche le proprie ricette personali. La crema di zabaione è pronta ed è stata realizzata completamente in automatico.